Enrico, concentriamoci anche sul titolo nel mirino della settimana. Eccolo qui, lo scopriamo anche con il nostro titolo in sovrimpressione, Paypal. Prima di andare a vederlo graficamente, ti chiedo perché hai scelto questo titolo? In questo caso ho scelto Paypal quasi esclusivamente per ragioni di analisi tecnica e poi perché fondamentalmente si sa, insomma, un vecchio detto compra basso e vendi alto, quindi purtroppo è molto facile andare a prendere delle trappole, cioè a comprare bassi, cioè a prezzi bassi, dei titoli molto piccoli, le cosiddette penny stock. Ma quando si trovano dei titoli importanti, capitalizzati, come Paypal, come anche altri titoli, che sono oggettivamente molto bassi e molto lontani dai massimi storici e in più il livello attuale si colloca su un'area supportiva dove si comincia a intravedere un'area di accumulazione, ecco che allora l'occasione bisognerebbe cercare di non farsela scappare, chiaramente con la cautela e col buon senso di sapere sempre che in borsa, come diceva l'ingegner Migliorino, non ci sono pasti gratis. Eh no, esatto, magari, nulla è gratis in realtà, non solo in borsa, quindi figuriamoci in borsa. In modo più popolare si dice che neanche il cane muove la coda per niente, insomma, no? C'è sempre una sorta di do-des e questo lo sappiamo. Allora Enrico, da che grafico partiamo così? Andiamo a vedere anche che cosa è evidenziato ovviamente con l'analisi tecnica. Abbiamo sia un grafico daily, sia un grafico weekly. Partirei dal daily per vedere esattamente la situazione di questi giorni, la situazione di questi giorni ci evidenzia come ai 70 dollari vi sia un'area di accumulazione dove il prezzo appunto dopo una lunga discesa aveva prima con un triplo minimo nella parte sinistra del grafico dove inizia la sezione giallo, da lì aveva cominciato a rimbalzare e poi abbiamo avuto una nuova discesa con un nuovo test di area 70, una nuova ripartenza e poi la discesa delle ultime sessioni dove si è andati con proprio la sessione di ieri a chiudere quel gap evidenziato dall'ellisse in gialla che era rimasto aperto. Non solo è stato chiuso, è stato chiuso con una Dragonfly che è l'ultima candela, quella di ieri che è molto simile a un Hammer ma ha ancora più prepotentemente implicazioni rialziste, perché? Perché il prezzo era sceso fino a area 76 dollari e poi essendo in un'area di accumulazione i minimi vengono riassorbiti dai compratori e quindi appunto dai 76 dollari ha chiuso quasi a 80 dollari 79,91, quindi ieri i compratori dopo la chiusura del gap sono di nuovo entrati in gioco e quindi secondo me questo è un segnale rialzista chiaro che è sfruttabile forse da subito perché il gap è stato chiuso e abbiamo una candela rialzista dopo una fase di storno e il tutto si colloca in un contesto di medio lungo periodo che possiamo vedere Emanuela passando al time frame weekly. Il time frame weekly ci dà proprio una situazione secondo me molto molto chiara, ci dice attenzione nel 2021, quindi l'anno scorso il titolo ha battuto un doppio massimo in area 310 dollari, adesso è 80, quindi quando si dice comprabasso qui non abbiamo dubbi da 320 siamo a 80 e in più vediamo come l'area dei 70 dollari che a destra era l'area di accumulazione evidenziata sul daily sia anche un supporto di lungo periodo perché già nel 2018 era stata un'area sulla quale il prezzo aveva fatto consolidamento prima di ripartire al rialzo, quindi siamo su un titolo importante che costa poco dai massimi di un anno e mezzo fa e si trova su un'area supportiva importante, quindi secondo me Paypal è già da subito un titolo che va considerato per metterlo in portafoglio. Ok, allora Paypal è il titolo nel mirino della settimana che entra di diritto per così dire nella nostra watchlist.